Mi chiamo Francesco Di Vincenzi, insegno tecnologia e progettazione software all'ERDS di Roma, l'Istituto Tecnico Industriale. Oggi abbiamo portato quattro classi, quattro gruppi che partecipano a questa hackathon con l'obiettivo di farli lavorare sulla realizzazione di idee che applicassero l'Internet of Everything all'interno di progetti innovativi. Il motivo per cui abbiamo portato i ragazzi qui è perché lavoriamo quotidianamente in questo senso. Cerchiamo di stimolare i ragazzi a utilizzare le tecnologie che imparano a scuola per applicarle in idee che possono venire da intuizioni della vita quotidiana, nelle attività della vita quotidiana. I nostri ragazzi lavorano nella nostra scuola utilizzando applicazioni per cellulari, con Arduino, con applicazioni web e integrandole fra il mondo. Quindi ci sembrava questo il nostro adatto dove portarli per imparare a creare nuove nostre idee.